Ok, sono qui, RedfinFox. Cerchio. Facciamo questo nuovo livello, che non so se c'è un bel filmativo o no. Non lo so, potrebbe avercelo. E non ce l'ha, perfetto. E che cazzo vuol dire? Lo sperma di cammello. Che è quello che sembra. Perché i cammelli spermano, vede. Allora, il problema di questo livello è che non mi ricordo nulla di questo livello, quindi... Come ho fatto l'aurore a finire lì, se ti c'è morto qui? Fa un... Culo! Quindi la parte del cretino l'ho fatta io. Ma molto cretino. Talmente è cretino che, vabbè, lasciamo stare. Vabbè, ma perché devono essere tutti fissati col cibo, gli animali, qua? Bravo, muori giù. E poi mi servirebbe un po' di vita extra. Perché non mi dando la vita extra? Voglio vita extra. Credo che prendendo tanta aura, prendendo una vita extra. Oltre a capire potenzialmente salute, di cui sinceramente ho abbastanza bisogno. Perché sono al minimo della salute quasi. Ho avuto solo un potenziamento. Soprattutto mi sa che sono verso la fine del gioco. Credo. Non so, sicuro, sicuro. Potrei essere, ecco, sbagliarmi. Cazzo! Per me sono quasi al fine, perché, cioè, vuol dire, alla fine è morta in Gino. Cioè, è morta. Abbiamo sconfitto in Gino, abbiamo sconfitto Tini. Dovremmo essere alla fine. Tutto è che dovremmo. Io sinceramente non mi ricordo se lo siamo o meno. Ok, no. Pe, 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 pe. Na, 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 na. No, questa canzone da qui sicuramente è vecchissima, no? Poi non mi ricordo il titolo. Non ti metto adesso, non mi ricordo il titolo. Ta, 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 ta. Scrivete nei commenti il titolo perché mi ho in mente. Non so anche perché mi ho in testa, forse c'è in qualche pubblicità, non so. Ah, affanculo, c'è qualcosa. Mi sto evitando tutti appositamente perché ho poca vita e non voglio perderne. Già ne ho poche, già no, quante ne ho? Select, premere, no. Cosa? Ah, ok, tutto normale. Ah, ok, ne ho quattro, perfetto. Cioè, perfetto, merda. Quindi, evitando di morire. Magari sono ste parti qui che sono abbastanza inguagliate. Se mi inguagliate, mi inguaglio io, ecco. Figlio di... Quella detta è una bestemmia, quell'altro. Ok. Lì c'è qualcosa? Ah, è qualcosa per crashare. Sono delle mutanti qui. E dei titani. Vabbè, affanculo quello che sono. Ci sono dei cosi qui. Ok. Sì, c'è quel tizio. Puttanone. Meno mai che non sono morto. Cosa? L'acido. Oh, cazzo. Almeno è cominciato qua, cioè, almeno. Mica tanto buono come cosa. Ho perso una vita. Ho perso una vita, non ho neanche il coso per crashare. Ah, no, c'è un po' capito, sto tizio. Cerchio subito. E ci diamo un suicidio abbastante. Anche tu, morire. Questa è l'3. Cosa è succede con l'3? No. Morite tutti quanti che mi state sul cazzo, sinceramente. Perché è bello essere sinceri, no? Proprio, così, sinceri. Dal cuore. Mi sto sul cazzo. Oh, merda. No, vabbè. Mi chiedo che uccidere senza morire. Perfetto. Adesso penso di riuscire a uccidere tutti con una bella mossa fino a pezzo di me. Ok, dobbiamo tornare a me, a dovere, poi... Puttano. Basta. Lasciami in pace. Vita. Meno male. Adesso muovi. Anche te, eh. Non penso di scappare. E tu? Tu non ti uccidesi. Ok, ti ho ucciso. Morita. Ok, amico. Lo so che ti piacerebbe vivere, però... Non posso lasciatelo fare, perché purtroppo... Eh... Odini dall'alto. Devi morire. Ricordate che brutto sei al posto di loro, diciamo, di uccidervi. Ho preso una vita in più, non so da dove. Forse perché ho raggiunto un determinato numero di aura. Vieni qua, muori. Grazie. È troppo gentile. Lo sapevo che sei stimolato per me. Minchia, quanta cazzo di aura. Anche te che sei da due. Perché? Perché va lento? Ogni tanto decidi di rallentare, perché... Eh... L'animazione, così così, però tutta l'aura, no? Fai niente. Muori. Eh, voglio mettere di livello, per favore. Qui ce n'è tanta. Oh, no, apparentemente, sì. Vaffanculo, che cazzo me ne faccio? Non lo uso mai. Eh, il gioco sente quello che dico e decide... ...in questo modo, diciamo. Minchia. Ok. Perfetto, io adesso credo a danneggiare questo. Immagino di no. Allora, aspetta, vado a prendere questi. No, sono morti. Vabbè. Oh, cazzo. Mossa finale è subito. No. Merda. Ok, ho perso un'altra vita. Sono morto, perché è colpa dell'acido di merdo. Ok, un attimo. Io ho una strategia abbastanza buona. Torni indietro. Recupero qualcosa da per crashare la gente. E poi torno qua. Commettiamo che è sca... Che è scappato, che è sparito. Ma per me... Ok, c'è ancora. Adesso io prendo... Io lo metto nel culo per sta cosa. Sì, di merda. Cody, 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 Crash. Crash è il mio cazzo preferito. Non dire che è Uli, adesso è morto. Cosa? Dopo in quel momento gli do da scadere. Adesso... Fa un culo. Merda. Ok, un altro. Un altro. Ok. Non so come ha fatto a rompergli la cosa. Ok. Tu devi morire. Vabbè, posso andare sul corpo proprio direttamente a un altro ucciso. Adesso morire tutti. Bene, e adesso muore anche quest'altro. Così prendo aura e così. Ehm... Nulla, perché tanto... Prima che raggiungo la prossima aura... La prossima cosa di aura finisco il gioco. Non ti avevo ucciso, te. Ok, perfetto. Sei morto. Uca, uca. Lasciami passare. Ok. Adesso tu mori con la mia moto finale. Cazzo di me. Uh, è già morto. Perfetto. Chissà come tu mi dà se sta creativo questo. Uh, cazzo. No, 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 no. Fa un culo, tanto posso scappare. Fili di puttana. Uh. Ciao, 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 ciao. Quell'effetto sonoro c'è in Crash. Non mi ricordo bene a quale serve, però c'è. Uh, che bello. L'abbiamo scampata, amici miei. L'abbiamo scampata, cari amici miei. La porta si è incastrata e la minchia fa male. Tanana, tanana. Ok, andiamo. Ok, saltiamo, saltiamo. E andiamo avanti. Lo so, lo so. E allora? Punti a me. Non li uccido perché ho poche vite. Mi so che l'ho già detto, però lo ripeto perché è necessario. Cosa? No, no, no. Sto gioco è programmato male. Io ero arrivato sul coso. Vola, 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 vola la peraia. E lo prende in culo, 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 culo da quante gaia. Lo prende in culo dentro al sentiero. Lo prende in culo per il giorno intero. Adesso muore, 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 muore. Sto bastardo. Bastardo, 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 quanto lardo. Rompiamo anche questo cazzo di coso. Anche se c'era abbastanza visibile. Non mi sembrava molto nascosto. Ma ormai ho capito che quelli sono messi visibile apposta per far pensare alla gente. E ho trovato un coso nascosto. Ti è mai passato? Dieci minuti tondi. Wow. Quindi la Trent Fox, sì, lo sapete già. State connessi perché il mio canale ha tanti video. No, vabbè, non lo so. Ciao. 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 Ciao.